Ragazzi, non c'è cosa più brutta del sabato sera a casa, quando tutti quanti escono, sono in giro a festeggiare e tu dove sei? A casa, tristemente a casa. Ma che brutta cosa ragazzi, come si fa? Avete capitato mai di stare a casa sabato sera? E non è palloso, dico, non è palloso stare sabato sera a casa? Io non riesco, come devo fare? Non ho nessuno che mi, non lo so, viene a trovarmi a casa, mi contatta, mi dice Armando sei sono qua, ti aspetto, ti vengo a trovare. No niente, nessuno ti chiama, nessuno ti telefona, nessuno ti dice nulla. Perché? Perché tutto ciò?